Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, fascia verde prorogati sino a fine ottobre i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, lo stop valido dal lunedì al sabato, festivi esclusi, interessa le auto a benzina sino a Euro 2, quelle diesel fino a Euro 3, moto e motorini Euro 0 ed Euro 1, ci sono delle deroghe e tutti i dettagli su romamobilita.it, le altre notizie, sabato dalle 18 allo Stadio Olimpico si giocherà il derby Roma-Lazio,